Chuck si gira! Entrano nel vivo le riprese del film di Peter Greenaway. In questi giorni infatti si svolgeranno alcune delle scene clou con Dustin Hoffman ed Ellen Hunt. Oggi, 3 aprile, le telecamere proseguiranno il lavoro su Torre Guinigi, monumento simbolo della città, che rimarrà off limizzo al pubblico per la seconda fase delle riprese, che proseguiranno fino a l'una di notte. Chuck in notturna anche in via del Fosso dalle 17 alle 3 del 4 aprile e in piazza San Francesco dalle 16 alle 2 del 5. Verranno invece riprogrammate le scene previste in piazza del Salvatore e in corte del Gallo. Il film prevede dalle 8 alle 9 settimane di lavorazione su 24 location, due set completi e tre quelli parziali, ricostruiti in un capannone, quattro invece i locali concessi dal Comune per uffici di produzione e riunioni.